Stipati in spazi angusti, senza il rispetto di alcuna norma igienico-sanitaria, costretti a lunghi viaggi che ne mettono a rischio il benessere e che molto spesso li vedono soccombere stremati. Sono spesso queste le condizioni nelle quali gli animali vengono trasportati all'interno del territorio nazionale verso destinazioni che possono richiedere anche giorni di viaggio. Ed è per questi motivi che gli uomini della polizia stradale di Ascoli Piceno hanno intensificato i controlli sulle strade, volti proprio a incentivare il rispetto della normativa vigente in materia di trasporto di animali vivi ed a scoraggiare comportamenti che ne mettano a rischio la salute. Negli ultimi dieci giorni la polizia stradale di Ascoli Piceno ha fermato nove veicoli che non rispettavano le norme igienico-sanitarie e le condizioni di vita del bestiame, uno dei quali al suo interno aveva anche un suino morto a causa dello schiacciamento e che rischiava di infettare gli altri capi di bestiame. Le sanzioni elevate dalla polizia hanno colpito sia gli autotrasportatori che i proprietari degli animali.